Il set è chiuso, è lotto, video è finito, l'ha fatte già con una innamorata, e non possiamo anticipare che questo brano con il video e con tutto, non possiamo dire che è come se, e si fa amore lo sfoglio mio cuore, possiamo anche, bene, ok, ci vediamo a fine mese con questo video pazzesco, ma veramente fatto da pazzi, amore a Gianni, vabbè?